bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi la vostra dose di fortnite news delle ultime 24 ore la trovate racchiusa in questi pochi minuti intanto ne approfitto ancora per farvi un nuovo augurio di buone festività natalizie fino all'anno prossimo a voi e alle vostre famiglie nel video di oggi voglio farvi vedere tutti i topic che ho trovato cercando un po in giro nei forum parliamo di evento di capodanno di quest'anno parliamo di alcune cose carucce che stanno succedendo nel play store di tanti leaks e di un sacco di cose prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e se la trovo di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news ma prima lo sapete la domandina e la domandina di oggi non può che essere semplicemente una qual è stato il vostro regalo più bello che avete ricevuto in questo natale dai scrivetemelo qua sotto nei commenti che sono molto curioso di leggerlo il mio è stata una lampada gigante di super mario che mi ha regalato la pami tra l'altro la potete vedere nel video che ho caricato ieri proprio dell'apertura dei regali di natale qua su youtube ma andiamo a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di questa bellissima immagine che sta girando da qualche ora nei vari forum dedicati a fortnite che dovrebbe essere presente nei file di gioco come avete ovviamente capito è un'immagine che ria raffigura la skin di black panther e secondo me potrebbe essere un loading screen quindi una schermata di caricamento che dovrebbe magari esserci regalata magari arrivare in qualche modo delle sfide non lo so è veramente meravigliosa come immagine anche se non fosse una schermata di caricamento tanta tanta roba speriamo comunque di ottenerla in qualche modo perché non sarebbe affatto male e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi che ieri se avete fatto tutte le sfide giorno per giorno si poteva sbloccare la prima delle due skin gratuite che vengono regalate appunto per il frost night di quest'anno la skin snowmando molto semplice la nonna sfida ci chiedeva semplicemente di pescare un flopper congelato quindi armatevi un attimo di pazienza e vedrete che riuscirete a farla quest'anno sono davvero molto easy le missioni quindi non serve neanche che io faccia dei video news perché volare con gli aeroplani raccogliere del gold pescare un pesce e tutta roba che ovviamente sapete fare senza nessun problema e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa invece è una cosa molto curiosa sembrerebbe che ad alcuni utenti di playstation appaia nel play store la possibilità di acquistare un numero molto ridotto di v bucks come vedete al prezzo di 1,29 sterline dovrebbero essere 1,50 euro da noi si possono acquistare 200 v bucks adesso io non so perché non ho la playstation se questa cosa succede anche in italia o è solamente un'esclusiva inglese se comunque vi dovessero servire pochi v bucks per andare a chiudere e acquistarvi una skin invece che spendere 7,49 per prenderne mille con 1,50 euro indicativamente ve ne portate via 200 se avete la playstation andate a dargli un'occhiata che sicuramente sarà interessante da scoprire e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa immagine è tratta dall'anno scorso ragazzi per chi non ricordasse che cosa succede la notte del 31 dicembre anche su fortnite ci sono dei fuochi d'artificio dei giochi pirotecnici che si ripetono ogni ora in base ai fusi orari di tutto il mondo perlomeno fino all'anno scorso era così quindi ogni ora pa 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 spara tutto ti mettevi a ballare e roba del genere oggi ve ne parlo perché anche quest'anno ovviamente ci aspettiamo qualcosa di abbastanza divertente e c'è un video che sta girando che secondo me è molto molto interessante ve lo voglio fare vedere come vedete proprio la skin vabbè non c'entra niente che fa qualcosa e nell'alto ragazzi si vedono tantissimi fuochi d'artificio che esplodono e colorano tutto il cielo di mille colori anche l'anno scorso c'erano i fuochi d'artificio me lo ricordo e anche l'anno prima c'era la palla sferica che scendeva con i fuochi d'artificio quindi è assolutamente lecito pensare che pure quest'anno potrebbe esserci qualcosa di simile magari arriverà anche un pensiero che ci ricorderà questo 2020 appena passato l'anno scorso è arrivato il deltaplano con sopra appunto la scritta 2020 andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una curiosità forse non lo sapevate perché si può fare anche con i veicoli la benzina infinita in poche parole questa è un'immagine presa sugli aeroplani come vedete le tanniche di benzina se siete abbastanza bravi ma non ci vuole molto potete tranquillamente lanciarle e farle restare sull'ala del vostro aereo andare in giro tranquillamente cambiate il posto vi prendete la tannica e fate benzina in volo questa cosa è comodissima anche perché io vi invito a utilizzare gli aeroplani per completare i 75.000 punti esperienza che vengono dati percorrendo una certa distanza con un veicolo gli aeroplani il modo veramente più easy per farla e quindi livellare con il vostro personaggio pass battaglia lo potete fare anche con i pickup se forse non lo sapete prendete la tannica la lanciate nel cassone del pickup e vi fate praticamente la vostra autobomba per andare in giro la tannica non cade ma se vi sparano dietro esplodete e diventa una roba un pochettino scomoda e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché anche questa è una cosa davvero interessante e utile soprattutto questa ragazzi fatevi un bel un bello screenshot ecco questa era la faccia da screenshot è una mappa è la mappa di fortnite dove sono segnati tutti i principali npc quindi i personaggi con cui potete interagire io vi invito ad utilizzare il vostro gold giocando le partite perché comunque avete un vantaggio notevole alcuni potenziano altri danno la salute alcuni ti permettono anche di fare delle quest vi ricordo che c'è anche la quest di potenziare le armi quindi esempio scendete a moli molesti andate nei bunker nei capannoni in fondo c'è la tizia che ti potenzia le armi vai giù di prepotenza e ti fai i punti esperienza quindi molto interessante se per caso ve ne manca qualcuno beh ecco qua la lista completa e chiudiamo il video news di oggi ragazzi con un'informazione ufficiale da parte direttamente di fortnite che ci ricorda che nella patch 15.10 verrà eliminata la possibilità del preedit cosa vuol dire che verrà inserita un'opzione nelle impostazioni che vi permetterà anche se per caso miscliccate durante l'edit di una struttura vi permetterà quando dovete ripiazzare la struttura di non averla preeditata ed è una cosa molto comoda anche a me capita ogni tanto di mettere giù i muri poi ti accorgi che c'è già l'edit fatto ti rivelano con prepotenza e ti ringraziano pure insomma ragazzi anche oggi le news io ve le ho dette spero che guardiate questo video che lasciate un bel pollicione in su mi raccomando anche un commentino aiutatemi a mandarlo nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao